Nelle spalline di una maia si ha in un decennio all'insegna della valide il consumismo come religione in una giacca con le mani che mi può care con semi-martone la sua taschiera i nostri figli sono ma male in paragona anche se trambi sono fuori forma prima è l'opera, dopo è flash adesso lo vogliono smacciare il mercato ringrazio il Dio che un po' di amica ma da truccare con me a ucciderli anni 80 a colpi di massa mi cazzo il Dio che muo' di amica ma da truccare con me a ucciderli anni 80 a colpi di massa a colpi di massa Grazie a tutti